1, 2, 3, let's go! Vi aspettiamo il 28 settembre a Milano, Roma e Reggio Calabria per provare gli Sport Paralimpici insieme a noi. Non aver paura, ti daremo noi una mano. Nella vita bisogna buttarsi. Mi raccomando, vi tengo d'occhio. Allora che fai, ci provi o no? Cambiare prospettiva, si può. 12 giornata nazionale dello Sport Paralimpico. Venerdì 28 settembre a Milano, Roma e Reggio Calabria.